Cari amici telespettatori, faccio questo video con la speranza che qualcuno ascolti queste mie parole molto significative. Dunque, faccio un appello, una promozione, in quanto si vedono pochi conduttori diversamente abili e ce ne sono molti che vogliono intraprendere questa faticosissima carriera. Pensate che ci sono numerosi blogger e conduttori semiprofessionisti, non professionali come sottoscritto, che vanno in tv con niente. E questa cosa non è giusta perché magari quando cose insensate su internet vengono viste e prontamente vengono chiamate nel grande schermo. Spero che questa pelle accenda le menti delle persone e faccia sì che molti di loro con con la stessa mia patologia possano smondare. mandate pure questo video in onda se potete. un abbraccio a tutti voi. mandate pure questo video in onda se potete. Andate. Andate.